In queste immagini si vede l'area golenale del fiume Secchia durante la piena del 12 dicembre 2017. In blu il percorso del fiume, in verde l'autostrada A1, in giallo l'autostrada A22, in rosso il tracciato iniziale della bretella Campogalliano-Sassuolo che dovrebbe raggiungere il comprensorio ceramico. Allargando la visione d'insieme si può vedere che nella stessa zona ricadono anche i campi acquiferi di Marzaglia. Qui mi trovo proprio sul punto in cui dovrebbe essere realizzato lo svincolo della bretella A22 Campogalliano-Sassuolo. La golena, chiamata anche area di espansione naturale, funziona come una specie di valvola di sfogo. Quando il fiume è in piena, l'acqua, oltre a essere regolata dalla cassa di espansione, può espandersi naturalmente all'interno dell'area golenale. Ha una superficie pari a 1300 campi da calcio e all'interno si trovano i laghi nati dalle ex cave estrative, terreni a uso agricolo, abitazioni e attività commerciali. Sempre all'interno dell'area golenale ricade inoltre lo svincolo autostradale. In questa posizione si può vedere lo svincolo dell'A22 Brennero con l'autostrada del Sole A1. Ma negli ultimi anni la frequenza degli eventi di piena del Secchia è aumentata in modo considerevole, come il 20 gennaio 2014, il 29 febbraio 2016, per poi ripetersi nel 2017, nel 2018 e nel 2019, con le piene di febbraio e in successione quelle del 13 e del 28 maggio. Io sono venuto ad abitare qua nell'87, non ho mai bagnato il fiume, perché il fiume forse era pulito, l'alveo era più fondo. La situazione è aumentata nel corso degli ultimi anni? In questi anni qua è un disastro. L'anno scorso cinque volte, quest'anno due, insomma. Qua in mezzo ai campi va bene se riempie d'acqua, si riempie tutto. Quindi viene la piena, questa zona qua si allaga? Sì, sì. Lei vive all'interno dell'area golenale, com'è la situazione quando le fiume è in piena? È molto pericoloso, perché si allaga tutto e c'è il rischio anche del crollo della casa lì, perché è tutta messa male. Quindi tutti gli anni, due volte, due volte all'anno... La regione che avete costruito qui intorno alla vostra casa tiene... No, no, l'ha superato di 50 centimetri, più o meno. Che l'interarea sia un punto critico lo dimostrano due documenti. Nel 2018 l'agenzia interregionale per il fiume Po Aipo scrive un progetto di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale del fiume Secchia, con lo scopo di adeguarlo alla piena con il tempo di ritorno di 20 anni. E su tale grandezza Aipo effettua elaborazioni idrologiche e idrauliche anche sull'area golenale. Una zona monitorata anche da una multinazionale di imballaggi alimentari con filiale a Modena Ovest, che nel 2014 commissiona all'Università di Parma uno studio con due simulazioni sugli effetti della piena del Secchia nella fascia o a Veste della città.